Una settimana dopo l'attacco jihadista, la chiesa di Saint-Étienne d'Urubre in Normandia, la cattedrale di Rouen, nel nord della Francia, ha ospitato i funerali di Jacques Emel, il sacerdote 86enne morto per mano di due giovani appartenenti allo Stato Islamico. All'eseque anche il ministro dell'interno Bernard Casneuve. All'interno della cattedrale si sono raccolte 1500 persone, qui si sono aggiunte le centinaia all'esterno nonostante la pioggia, il tutto sotto un massiccio schieramento della polizia. Domenica molti musulmani francesi e anche italiani si sono recati nelle chiese a fianco dei cattolici, in segno di solidarietà e speranza. I responsabili dell'assassinio sono stati uccisi dalla polizia durante l'assalto alla chiesa.